Poi disse un altro, de, se quel desio si compia, il se è un seottativo, significa che augura, possa compiersi, questo è il senso, seottativo, opto in latino significa desidero, significa che questa espressione esprime un desiderio. Ed è una captatio benevolentie, perché augura di ottenere quello, di realizzare quanto desidera. Poi disse un altro, de, quel desio possa, quel desiderio possa compiersi, quel desiderio che ti fa, che ti trascina, che ti porta all'alto monte, con buona pietate aiuta il mio. Quindi, possa tu proseguire, realizzare il tuo cammino, sii pietoso e aiuta il mio desiderio. Io fui di Montefeltro, io son buon conte, Giovanna o altri non ha di me cura, perché io vo tra costor con bassa fronte. Giovanna è la moglie, è la vedova, che evidentemente non si cura di lui, non si dà pensiero per lui, e questo per lui è motivo di dolore, è motivo di vergogna, e questa è la ragione per cui lui, rispetto alle altre anime, procede con bassa fronte. Attenti ai verbi. Io fui di Montefeltro, io son buon conte. Io fui di Montefeltro, lui è buon conte di Montefeltro, e fui indica, e il fui, il verbo al passato remoto, è collegato alla sua nobile casata d'origine. Ma questa nobile casata non conta più, per quel che conta è che adesso lui sia semplicemente buon conte, no? Nella prospettiva ultraterrena, nella condizione ultraterrena, le anime si liberano dei loro titoli. Giovanna non ha cura di lui, e realizza Dante, realizza Dante, di aver davanti un suo nemico, ma soprattutto Dante realizza che Bonconte da Montefeltro è legato all'esperienza della battaglia di Campaldino, che si tenne nel giugno del 1289. Ora, Campaldino si trova in una bellissima zona interna della Toscana, in provincia di Arezzo, nel Casentino, tra Poppi e Bibiena, una bellissima zona adatta anche per fare una vacanza. Ma in questa piana, nella piana di Campaldino, si tenne una battaglia sanguinosa tra Arezzo e Firenze, 1289, è interessa che Dante avesse preso parte alla battaglia, combatteva tra i feditori a cavallo, quindi è una battaglia in cui Dante ha preso parte direttamente. Ma c'è un mistero, perché Dante ricorda a questo punto che il corpo di Bonconte da Montefeltro non fu mai recuperato. Le cronache del tempo registravano la sua morte, ma era notizia conclamata che il corpo non si sapesse che fine avesse fatto. E allora ecco che Dante, su questo fatto di cronaca dell'epoca, innesta il suo discorso e gli chiede qual forza o qual ventura, cioè qual caso, ti traviò sì fuor di Campaldino che non si seppe mai della tua sepoltura. Che cosa ti ha trascinato lontano da Campaldino al punto che non si seppe mai del luogo della tua sepoltura? E c'è un no, un no interiezione che evidentemente è un no che esce spontaneo per il fatto che tocca un argomento che ancora per lui ora è motivo di tristezza e di disagio. O rispose egli, ai piedi del casentino Allora, il luogo è designato con precisione. Siamo nella zona del casentino dove scorre un torrente che si chiama Archiano che nasce sovra l'eremo, l'eremo di Camaldoli, nell'Appennino. Dove l'Archiano perde il suo nome, fuori di metafora, dove l'Archiano confluisce nell'Arno e quindi confluendo nell'Arno le sue acque diventano acque dell'Arno, per questo dice Perdersi, il suo nome diventa Vano, arrivai io forato nella gola, cioè con un foro in gola, fuggendo a piedi e sanguinando il piano. Qui vi perdei la vista e la parola, nel nome di Maria finì. Attenzione qui, arriva nel punto che ha detto e qui ha perduto la vista che la sua ultima parola fu nel nome di Maria e la parola finì nel nome di Maria. Scena molto forte, perde la vista, quindi vuol dire che sta, non vede più la luce, insomma sta morendo e l'ultima parola che proferisce è il nome di Maria. Dopodiché cadde e rimase soltanto la mia carne sola. A questo punto c'è una scena, una scena forte, perché Bonconte si appresta a ricordare come siano comparsi l'angelo e il diavolo. L'angelo porta via con sé l'anima di Bonconte, perché il fatto che egli si sia rimesso a Maria gli assicura la prospettiva del perdono e quindi della salvezza. E il diavolo invece è inviperito, è addiratto, è fortemente addiratto, perché per una semplice parolina l'angelo ha avuto ragione, cioè grazie a una semplice parolina a Maria l'angelo si è assicurato l'anima di Bonconte e quindi addiratto da luogo, da sfogo alla sua rabbia, maltrattando, vessando, facendo fare una brutta fine al corpo di Bonconte. Questo era quello che Dante voleva sapere, che fine ha fatto il corpo e Bonconte lo spiega in una prospettiva che ha dei toni molto forti, molto medievali, per un mondo cristiano in cui si credeva che gli angeli e i diavoli fossero presenti nella vita delle persone. Io dirò il vero, ecco la verità, il vero è una parola importante, io dirò la verità e tu ridillo tra i vivi. L'angelo di Dio mi prese e quello di inferno, cioè il diavolo, gridava ho tu del cielo, perché mi privi? Cioè tu, creatura celeste, angelo, perché mi privi dell'anima? Tu te ne porti di costui l'eterno, cioè tu ti porti via la parte eterna di costui, cioè l'anima, per una lagrimetta che mi toglie. La lagrimetta vuol dire per una parolina, si riferisce a quello, per Maria, una semplice lagrimuccia gli assicura la salvezza e ti porti tu via l'anima, ma io farò dell'altro altro governo. Bisogna leggerlo così, bisogna capire che qui la ripetizione dell'altro, il primo altro si riferisce al corpo e altro governo vuol dire che riserverà ben lui un altro trattamento al corpo. Questa terzina è giocata sull'antitesi tra eterno, l'elemento eterno di noi l'anima al verso 106 e l'altro che è l'elemento corporeo, l'elemento del corpo. Dopo le parole di minaccia del diavolo che intende vendicarsi, assistiamo ad una scena apocalittica perché dice ben sai, racconta Bonconte, ben sai come nell'aere si raccoglie quell'umido vapore che in acqua riede, tosto che sale dove il freddo lo coglie. Beh, è cosa ben nota, noi sappiamo già che Dante è un esperto dei fenomeni naturali e Bonconte che parla nell'opera di Dante non è da meno. Qui fa semplicemente riferimento ai vapori atmosferici che salendo dove trovano delle temperature più fredde si condensano e questo appunto determina la pioggia. la caduta della pioggia ben sai come nell'aere si raccoglie quell'umido vapore che in acqua riede tosto che sale dove il freddo il coglie non appena sale nel punto in cui l'aria più fredda lo interessa. Giunse quel mal voler che pur mal chiede con lo intelletto la costruzione è questa quel il diavolo giunse uni la volontà malvagia il mal voler che chiede soltanto il male con l'intelligenza il diavolo uni la sua volontà malvagia all'intelligenza emosse il fumo i vapori e il vento per la virtù che sua natura diede per la capacità che sono che è legata alla sua natura di cui la valle come il di fu spento quando finì il giorno da Pratomagno al Gran Giogo coperse quindi coperse da Pratomagno una località all'Apennino coperse di nebbia e il cielo sopra di noi si fece denso sì che il pregno aere in acqua si converse quindi è tutto una nuvolaglia estesa una densità tale di nubi che subito dopo si tramuta in acqua la pioggia cadde e ai fossati venne di lei della pioggia ciò che la terra non sofferse quello che la terra non fu in grado di sostenere di sopportare si incanalò nei fossati e come ai rivi grandi si convenne verlo fiume reale tanto veloce si urinò che nulla la ritenne vale a dire la pioggia prima si incanala nei fossati poi nei rivi grandi e poi nel fiume reale vale a dire nell'arno si ruinò precipitò tanto rapidamente che nessun ostacolo fu in grado di trattenerla è una scena molto forte perché assistiamo all'estendersi del grigio nel cielo al cadere della pioggia ma è una pioggia che prima forma fossati poi alimenta rivi grandi torrenti e poi il fiume reale c'è un climax perché i corsi d'acqua interessati sono sempre sempre più grandi fiume reale chiamato così perché nella nella credenza del medioevo i fiumi che sfociano nel mare si consideravano fiumi reali è l'anima che assiste al destino del suo corpo e questo fa sì che la narrazione sia molto dettagliata lo corpo mio gelato in sulla foce trovò l'archian rubesto l'archiano rubesto il fiume che ha nominato prima rubesto vuol dire robusto l'archiano robusto è il soggetto è una personificazione l'archiano trovò il mio corpo gelato sulla foce e poi quindi era in prossimità dell'archiano e poi per effetto della forza dell'acqua sospinse nell'arno e sciolse al mio petto la croce che io fedi me quando il dolor mi vinse voltò mi per le ripe per lo fondo e poi di sua preda mi coperse e cinse e questo è l'epilogo drammatico è il corpo di Bonconte che si fa detrito quel che al verso 129 è detto preda il corpo che si fa detrito ma c'è un altro passaggio narrativo che non possiamo non evidenziare perché dice che con violenza l'acqua dell'archiano lo ha spinto nell'arno e in questo ha sciolto la croce che lui si era fatto sul petto evidentemente le braccia al croce non era morto con le braccia a formare una croce ma la violenza è quindi un segno cristiano per noi la croce ma la violenza dell'acqua scompose questa sua questa posa che appunto in punto di morte aveva assunto e come annunciato dopo questa immagine forte del corpo che si fa detrito prende la parola un'altra anima De sempre i De come interiazione quando tu sarai tornato al mondo e riposato dalla lunga via seguitò il terzo spirito al secondo ricordati di me che son la pia siena mi fe disfece mi maremma salsi colui che in anellata pria disposando mi avea con la sua gemma pochissimi tratti per questa per questa figura femminile accennata appunto con poche parole augura il felice esito del suo viaggio si definisce la pia nativa di siena e che ha trovato la morte nella maremma salsi colui che vuol dire lo sa sa bene questo colui che mi avea con la sua gemma inanellata c'è mi aveva sposato pria disposando chiedendo prima la mia mano c'è è tutto estremamente concentrato un verso per ricordare il luogo d'origine e il luogo in cui ha vissuto un verso per attribuire la responsabilità della sua morte anche lei è uno dei una dei per forza morti al marito gli ultimi due versi ci propongono due verbi che sono ricorrenti nella nelle pratiche del matrimonio dell'epoca perché disposando è un gerundio riferito a colui che è il marito disposare significa manifestare la volontà di contrarre matrimonio con una donna e l'altra espressione invece inanellare con la gemma indica proprio il momento in cui avviene il matrimonio e lo sposo mette all'anello al dito della sposa una pietra preziosa quindi queste sono le due fasi della cerimonia nuziale nella liturgia del medioevo questa chiusura sicuramente ribadisco serve a stenterare il clima di violenza che contraddistingue questo canto i primi due racconti sicuramente sono molto concitati e molto violenti nel secondo Dante chiede all'anima il destino del suo corpo mentre nel primo Dante tace e nel terzo caso invece questo della donna si sa si sa pochissimo è un racconto meno dettagliato ma che non per questo risulta meno suggestivo grazie a tutti